Vedrete un altro importante evento a Valgoglio? Direi di sì, dopo quattro anni di prove e riprove con campionati di media importanza, l'anno scorso è il campionato italiano, quest'anno c'è il salto decisamente di categorie, si punta all'europeo, per cui Valgoglio avrà la possibilità di eleggere il campione europeo di Bike Trial. Siamo oltremodo orgogliosi che la dinamica Bike Trial abbia scelto ancora per quattro anni consecutivi il nostro percorso, un percorso a detta dei tecnici valido, tecnicamente quindi interessante, avremo modo di vedere 100 atleti come già stato detto da più parti, 20 nazioni, un modo come un altro per avvicinare la gente della valle, soprattutto della Lombardia, a questo sport che è affascinante oltre che ecologico. Mi auguro solo che il tempo assista e che non ci siano incidenti sul percorso. Auguriamoci naturalmente che vinca un italiano anche se i pronostici danno per favoriti sia i ciechi che gli spagnoli che gli inglesi. E come sarà questo circuito? Dove si svolgerà questa importante gara? Si svolgerà a Novazza. Sarà un circuito molto difficile perché comunque abbiamo fatto i campionati, gare del campionato italiano negli anni scorsi. Circuito sempre difficile, molto tecnico e si spera che vada tutto bene. Ci speriamo noi. E ci saranno quindi grandi nomi della disciplina europea? Sì, ci saranno soprattutto i ciechi, gli spagnoli, sempre primi in classifica e noi cercheremo di fare il possibile per mettergli i bastoni fra le ruote. Ci proviamo noi. E in vista ci sono anche i mondiali? Sì, in vista ci sono i mondiali. La prima tappa del mondiale sarà in Spagna il 9 agosto e anche qui sarà una gara molto difficile, come sarà tutto il campionato mondiale, molto difficile. Speriamo di fare il meglio possibile. Mi ricordi dove vivi? Gromo. Gromo, sì, Bergamo. Classe? Del 1996, 18enne. Come diffusa questa disciplina nel nostro paese? Il Bike Trial in Italia è arrivato nel 2001. La Federazione Internazionale Bike Trial International Union è nata nel 1992 e da noi ormai è 15 anni che si svolge un campionato nazionale. Si parte appunto dal Nord Italia, Piemonte, Lombardia. Si scende ogni anno sempre con una gara sempre ben riuscita a Rosignano-Solvè in Toscana e spesso si arriva anche nel Lazio con Rieti. Queste sono un pochino le città che si vanno a toccare tutti gli anni. Quest'anno avremo anche una gara in Sardegna che chiuderà la stagione italiana a settembre e il campionato prosegue appunto, è alla quindicesima edizione quest'anno. Abbiamo nella nostra storia ottenuto anche due campioni mondiali. Il primo è il notissimo Vittorio Bermotti che ha vinto il campionato mondiale Master nel 2004 e Andrea Riva di Bergamo che ha vinto nella categoria minima nel 2012. Quindi per voi questa è una gara molto importante? Sì, è una gara importante. È l'arrivo di un cammino che ci siamo dati quattro anni fa. Abbiamo fatto quattro gare di campionato italiano come prove tecniche ben riuscite per poter portare un evento importante a livello globale, quindi europeo. Siamo riusciti nell'intento grazie anche all'interessamento di Bike Trial Italia che è l'ente di promozione del Bike Trial in Italia. E grazie anche a chi ci ha seguito sin dall'inizio, che è alla fine il presidente della comunità montana e il sindaco di Valgoglio. Quindi un grazie a lui e un grazie anche a tutti quelli che stanno collaborando da anni nella mia associazione di Namit Trial, che a titolo gratuito vengono per anni a lavorare, a aiutarmi a tracciare dei percorsi, a organizzare questi eventi, solamente a titolo gratuito e solamente per passione.